Una nuova evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Bari, questa volta a finire nei guai, è stata una società cooperativa con sede a Bitrito e impegnata in altre attività di servizi per la persona. Nei confronti di quest'ultima e del suo rappresentante legale è scattato un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni mobili e mobili registrati del valore complessivo di 2 milioni di euro. Sarebbe questa, secondo gli inquirenti, la cifra del profitto dei reati tributari ed in particolare del reato di omessa dichiarazione dei redditi o ai fini IVA. Il decreto è stato emesso dal GIP del Tribunale di Bari, mentre l'indagine è partita da una verifica fiscale nei confronti della cooperativa finita sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle. Sarebbero state omesse dichiarazioni di reddito fino a 6 milioni di euro, un milione di euro invece l'IVA evasa.